A pochi giorni dal taglio del nastro dell'interquartiere, i flussi di traffico nelle zone limitrofe hanno da subito avuto miglioramenti, ma la prova del fuoco si ha con il monitoraggio delle criticità nelle ore di punta e la risposta che la struttura è in grado di dare. In queste ore su Via Roma le code a dir vero non sono state poi di molto diverse da quelle pre-apertura della bretella. L'innesto nella nuova arteria comunque richiede tempo ed abitudine. Il tempo lo dirà, ma certamente alcune criticità e palesi incongruenze sono passate dalle parole ai fatti. Il problema di Via Fanella e il suo imbuto non è certo con un lampeggiante che si può risolvere, come anche pure una pista ciclabile che non continua nel suo naturale senso di marcia, ma come accade nell'innesto con Via Roma, i ciclisti, come anche i ragazzini in uscita dall'oratorio, sono costretti ad un attraversamento pedonale per imboccare il lato giusto, cosa non comodissima. Sempre in tema di pedoni poi le tanto osteggiate barriere antirumore, oltre che murare visivamente le abitazioni, impediscono anche ai pedoni di Viale Italia un attraversamento in tutta sicurezza, dato che gli automobilisti che vi svoltano hanno la visuale, su chi si trova sulle zebre, completamente ostruita dai ciclopici pannelli arrugginiti. Ma un'altra grossa problematica potrebbe verificarsi nel cul de sacche che si è formato nel parcheggio del circolo tennis, in zona trave. Lo sventurato autotrasportatore proveniente dal fenile che, non potendo girare a destra, prosegue in via trave, effettuando poi la rotonda e non trovando alcun divieto, tira dritto fino al circuito Marconi e lì ecco che compare in fondo alla strada un bel divieto di accesso per i camion. Da lì in poi, far far manovra in quello spazio a un 5 assi, ci vuole la bacchetta del mago Silvan, a meno che qualcuno non aguzzi l'ingegno e ci metta mano.